stai cercando una borsa all'uncinetto con un punto particolare un modello versatile per tutte le stagioni che richieda pochissimi materiali e spiegata passo passo allora sei nel video tutorial giusto per te io sono silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale youtube in questo video ti mostrerò come replicare questa borsa passo passo un modello super versatile che ci consente di giocare con i colori e con gli accessori nel mio caso ho applicato dei manici a mano in bambù ma possiamo applicare dei manici per portare la nostra borsa a spalla o se lo desideriamo applicare una tracolla trasformando così questa borsa in base alle nostre esigenze e ovviamente possiamo giocare anche con i colori del filato a seconda della stagione cominceremo il progetto partendo dalla lavorazione di un fondo ovale impareremo come lavorare questo punto il punto canestro alternato intrecciato replicabile con qualsiasi tipologia di filato ma secondo me perfetto per filati come la fettuccia e concluderemo il nostro percorso vedendo come applicare correttamente dei manici in bambù con attacchi in metallo all'interno del progetto non ho inserito alcun supporto perché come avete visto nelle immagini di anteprima del tutorial la nostra borsa rimane perfettamente in piedi da sola anche avendo utilizzato un filato estremamente morbido come questa fettuccia questo punto va a dare compattezza sostegno al tutto il progetto permettendo quindi alla borsa di stare in piedi da sola ma ovviamente se lo desiderate potete aggiungere un supporto interno che può essere della rete del feltro qualunque materiale desiderate per rendere più rigido il vostro progetto e come vi ho anticipato potrete giocare con gli accessori cambiando i manici scegliendo tra una chiusura con zip una chiusura con bottone una chiusura magnetica insomma potete giocare con quello che la vostra fantasia vi suggerisce andiamo quindi a vedere insieme tutti i materiali di cui avremo bisogno e se questo tutorial sarà di vostro gradimento vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video fondo ovale in ecopelle colore nero misura 30 per 10 centimetri compresenti lungo tutto il perimetro dei fori fettuccia pandoro queen avion di tessiland 200 grammi per circa 300 metri uncinetto consigliato dal 4 al 6 vi lascerò indicato sullo schermo il numero esatto di rocche che andrò ad utilizzare copia di manici in bambù con attacchi in metallo tra una parte e l'altra del manico c'è una distanza di circa 15 centimetri attenzione avevo questa coppia di manici nella mia craft room da un po di tempo ma sinceramente non so indicarvi dove potete trovarli esattamente della stessa tipologia per quanto riguarda il colore ma nessun problema potete replicare questo progetto con qualsiasi tipologia di manico in bambù a vostro gusto o in generale con qualsiasi tipologia di manico fate solamente attenzione alla posizione degli attacchi che deve essere come vedete frontale per agganciare i manici al corpo borsa utilizzo 4 ponticelli semplici misura 25 per 19 centimetri color argento disponibili sul sito di tessiland lavorerò il tutto con uncinetto tre mezzo ricordate di scegliere l'uncinetto in base alla tipologia di filato e alla vostra mano di lavorazione cominciamo il nostro progetto partendo dal fondo per ottenere la lavorazione che avete visto nelle immagini di apertura del tutorial abbiamo bisogno di una base composta da un numero di maglie pari per questo motivo andrò a lavorare all'interno dei fori presenti sul mio fondo due maglie basse per ciascun foro mentre nei quattro fori presenti negli angoli che ho segnato con i marcatori andremo a lavorare degli aumenti ciascun aumento sarà composto da tre maglie basse all'interno del foro segnato potreste utilizzare un filato differente rispetto al mio o avere una mano di lavorazione diversa lavorare più stretto oppure più morbido questo comporterà per voi dover calibrare in modo diverso il numero di punti da lavorare sul fondo in particolare le maglie che andrete a lavorare dovranno avere tutte lo stesso aspetto non dovranno esservi maglie più strette o maglie più morbide in questi due casi o avete lavorato troppi punti o ne avete lavorati troppo pochi potreste quindi trovarvi a dover aggiungere delle maglie in più a fare degli ulteriori aumenti questi possono essere lavorati nel foro precedente a quello segnato col marcatore nel foro successivo oppure in casi particolari all'interno di tutti questi tre fori dovete quindi guardare il vostro lavoro e scegliere in base al risultato che andate ad ottenere come calibrare questi aumenti cominciamo quindi facendo un cappio al nostro filo scegliamo un foro qualsiasi tra quelli presenti sul fondo io per comodità scelgo sempre il foro al centro del lato corto nel mio fondo con l'uncinetto vado ad entrare all'interno del foro pongo il cappio sul mio uncinetto e porto il filo attraverso prendo il filo e vado a bloccare il tutto devo lavorare due maglie basse all'interno di ciascun foro quindi rientro nello stesso foro riprendo il filo lo porta attraverso e realizzo un punto basso mi sposto nel foro successivo e proseguo lavorando due maglie basse nei due fori successivi eccoci davanti al nostro primo foro nell'angolo rimuovo il marcatore e all'interno di questo foro devo lavorare tre maglie basse ripetere quindi i passaggi che abbiamo visto nei fori precedenti per tre volte lavoro la prima la seconda e la terza maglia bassa realizzato il primo angolo come proseguire lavoriamo due maglie basse all'interno di tutti i fori fino ad arrivare qui al nostro secondo angolo all'interno di questo foro segnato col marcatore lavoriamo un aumento tre maglie basse nello stesso foro riprendiamo con due maglie basse in tutti i fori fino ad arrivare al terzo angolo all'interno del foro segnato col marcatore lavoriamo un aumento tre maglie basse proseguiamo con due maglie basse in ciascun foro fino al quarto e ultimo angolo anche qui lavoriamo un aumento tre maglie basse nello stesso foro e concludiamo il nostro lavoro all'interno dei fori eseguendo due maglie basse negli ultimi fori restanti dopo di che vediamo insieme come completare la lavorazione del fondo lavorate le ultime due maglie basse nell'ultimo foro disponibile completiamo il nostro fondo realizzando una chiusura invisibile con ago allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandocene un pochettino in più sfiliamo il tutto e poniamo il filo su un ago a sinistra abbiamo il punto con il quale ci siamo agganciati al nostro fondo è il primo punto basso completo che abbiamo lavorato formato da queste due costine con il nostro ago dobbiamo passare da dietro sotto ad entrambi questi fili in questo modo e portiamo il filo con noi e torniamo indietro all'ultimo punto basso lavorato questa volta passiamo al centro tra le due costine portando così il filo sul retro del lavoro e blocchiamo il filo facendolo passare sotto i punti sul retro appena lavorati questo sarà il risultato al termine della lavorazione del fondo e ora cominciamo il corpo del nostro progetto possiamo partire da una maglia qualsiasi tra quelle che ci si presentano ma io comincio sempre e vi consiglio di fare altrettanto da una delle maglie presenti sul lato corto del nostro fondo realizzato un cappio con un nuovo filo e scelta la maglia di partenza vi vado ad entrare in costa retro prendendo cioè solo la metà costina più lontana rispetto a me in questo modo pongo il cappio sull'uncinetto e lo porto attraverso prendo il filo e blocco in questo giro dobbiamo lavorare una maglia bassa nella costa retro di ciascun punto quindi vado nella costa retro del punto successivo prendo il filo e lavoro un punto basso proseguiamo in questo modo lavorando una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto fino ad arrivare al termine del nostro giro lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro nell'ultimo punto disponibile andiamo a chiudere questo giro e contemporaneamente iniziare successivo attenzione perché i passaggi di questa chiusura li andremo a ripetere anche nei prossimi giri allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto a sinistra abbiamo il punto con il quale ci siamo agganciati alla lavorazione del fondo e subito accanto la prima maglia bassa completa lavorata la riconosciamo perché ci sono entrambe le costine qui nella parte superiore con l'uncinetto entriamo da dietro proprio sotto a queste due costine una e due prendiamo poi la nostra asola e la poniamo sull'uncinetto e con l'uncinetto la portiamo sul retro del lavoro tirando in questo modo se ci fate caso l'asola che abbiamo portato sul retro forma due fili qui che vanno a completare il primo punto con il quale ci siamo agganciati al fondo per cominciare il prossimo giro che cosa facciamo teniamo ferma l'asola e sfiliamo l'uncinetto e con questo dobbiamo passare proprio qui sotto ad entrambi i fili che compongono l'asola che abbiamo portato sul retro vi passiamo sotto prendiamo nuovamente il filo e lo portiamo attraverso creando così una nuova asola recuperiamo quella lasciata sul retro riprendiamo il filo e andiamo a chiudere ed ecco qui il primo punto del nostro nuovo giro in questo giro lavoriamo una maglia bassa normale sopra ciascun punto che ci si presenta quindi passando sotto ad entrambe le costine di ciascun punto e vi eseguiamo un punto basso proseguiamo in questo modo senza aumenti e senza diminuzioni fino ad arrivare al termine del giro chiudiamo questo giro come abbiamo chiuso il precedente allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro qui sotto il primo punto basso completo che abbiamo lavorato questo era il primo punto del giro questo è il secondo ma è la prima maglia bassa completa entriamo sotto ad entrambe le costine prendiamo l'asola la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro teniamo ferma l'asola sfiliamo l'uncinetto con l'uncinetto passiamo sotto ad entrambi i fili che compongono la nostra asola prendiamo il filo lo portiamo attraverso creando un'asola nuova recuperiamo quella lasciata sul retro prendiamo il filo e chiudiamo ed ecco il primo punto del nostro nuovo giro di fatto abbiamo lavorato un giro di maglia bassa in costa retro e un giro di maglia bassa normale anche in questo giro lavoriamo una maglia bassa prendendo entrambe le costine dei nostri punti quindi lavoriamo un secondo giro a punto basso normale proseguiamo ripetendo quindi i passaggi che abbiamo visto nel giro precedente fino ad arrivare al termine del giro completato questo secondo giro a punto basso normale ripetiamo i passaggi per la chiusura in questo giro dobbiamo alternare due punti un punto basso normale e un punto basso allungato il primo punto basso normale l'abbiamo appena lavorato è il primo punto del nostro giro il punto successivo deve essere un punto basso allungato questo è il punto seguente non dobbiamo entrare qui sotto ad entrambe le costine ma dobbiamo scendere di due giri di lavorazione arrivando qui tra il giro di maglia bassa in costa retro e il primo giro di maglia bassa normale che abbiamo lavorato da qui scendiamo quindi di uno e due giri entriamo nel punto e portiamo sul filo carichiamo il filo e chiudiamo come se fosse un punto basso normale questo è il punto allungato il punto seguente è un punto basso normale il successivo punto basso allungato quindi da qui scendiamo uno e due giri allunghiamo e chiudiamo proseguiamo alternando questi due punti fino ad arrivare al termine del giro l'ultimo punto del nostro giro sarà una maglia bassa allungata chiudiamo questo giro e cominciamo successivo allunghiamo l'asola sfiliamo l'uncinetto entriamo da dietro sotto il punto basso allungato che abbiamo eseguito poniamo l'asola sull'uncinetto e la portiamo attraverso prendiamo il filo e realizziamo una catenella guardiamo i punti sottostanti in particolare i punti allungati per questo giro dobbiamo prendere in considerazione questa parte del punto allungato alla nostra destra e questa parte del punto allungato alla nostra sinistra destra e sinistra con l'uncinetto entriamo quindi sotto alla metà del punto allungato sulla destra e sotto alla metà del punto allungato presente a sinistra prendiamo il filo lo portiamo attraverso abbiamo due asole le chiudiamo tutte insieme questo sarà il risultato e il primo punto del nostro giro vedete come la parte destra e sinistra dei punti allungati ora vadano a unirsi qui al centro ci spostiamo sul punto successivo qui a sinistra dove lavoriamo un semplice punto basso e ci troviamo ora al centro tra due punti allungati entriamo sotto la parte destra e la parte sinistra di questi due punti prendiamo il filo e realizziamo il punto ci spostiamo sul punto successivo qui lavoriamo un punto basso otterremo così questo risultato e questa sarà la sequenza di punti che dovremo ripetere per tutto questo giro prendiamo la parte destra e sinistra dei punti allungati eseguiamo il punto maglia bassa sul punto successivo e continuiamo in questo modo fino ad arrivare al termine nostro giro ultimo punto di questo giro sarà una maglia bassa dobbiamo ora entrare qui sotto ad entrambe le costine del primo punto del giro quello che forma il primo incrocio sfiliamo l'uncinetto entriamo da dietro sotto a queste due costine prendiamo il filo lo poniamo sull'uncinetto e lo portiamo sul retro catenella di supporto e siamo pronti a cominciare un nuovo giro dove andiamo nuovamente ad alternare una maglia bassa normale a una maglia bassa allungata attenzione tutte le maglie basse allungate di questo giro dovranno cadere esattamente qui al centro dell'incrocio sottostante quindi scendiamo qui alla base di questa riga di lavorazione al centro del nostro incrocio prendiamo il filo lo portiamo attraverso e lavoriamo il nostro punto punto successivo lavoriamo una maglia bassa normale nuovo incrocio scendiamo qui al centro portiamo in su e chiudiamo punto basso e proseguiamo in questo modo alternando i nostri due punti fino al termine del giro avendo cominciato questo giro direttamente con la maglia bassa allungata all'ultimo punto del giro sarà un punto basso sopra le due costine della maglia bassa allungata entriamo da dietro prendiamo il filo e chiudiamo questo giro come potete intuire dobbiamo andare ora ripetere i passaggi per creare il nostro incrocio catenella guardiamo i punti sulla destra dobbiamo prendere questa parte e questa prendere il filo e realizzare il nostro punto come abbiamo imparato creando il primo giro di incrocio il punto successivo sarà un punto basso normale e dobbiamo continuare a creare i nostri incroci sfruttando le nuove maglie basse allungate che abbiamo realizzato nel giro precedente questo sarà il risultato che andremo ad ottenere arriviamo al termine del giro e vediamo come cominciare il successivo i passaggi per la chiusura l'abbiamo già visti in precedenza andiamo qui sotto alle due costine del nostro primo incrocio portiamo l'asola sul retro catenella di supporto e dobbiamo andare a creare un nuovo giro alternando una maglia bassa normale a una maglia bassa allungata così da ottenere nel giro successivo ancora un nuovo incrocio anche in questo caso la maglia bassa allungata deve cadere qui al centro dell'incrocio sottostante portiamo fuori il filo punto basso sul punto successivo scendiamo al centro dell'incrocio saliamo punto basso il giro è cominciato con una maglia bassa allungata quindi andrà a terminare con una maglia bassa normale se nel corso della lavorazione vedete che il vostro inizio e termine del giro tende un pochettino a spostarsi avanti e indietro è normale perché non è una lavorazione diciamo regolare dovete sempre adattarvi in base a quello che vedete davanti a voi il punto fondamentale è il seguente dovete sempre cominciare il vostro incrocio guardando il primo punto basso allungato alla vostra destra e il primo punto basso allungata sinistra prendendo gli appositi fidi da lì in poi proseguite alternando sempre i vostri punti in un giro alternate una maglia bassa allungata a una maglia bassa normale nel giro successivo alternate un incrocio a un punto basso normale non facciamo quindi altro che alternare questi due giri di lavorazione incrociando i nostri punti fino ad ottenere un corpo borsa come questo ho lavorato nel mio caso fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 24 cm l'altezza del progetto borsa è a vostro gusto ma per una questione di proporzioni vi consiglio di non scendere al di sotto dei 24 cm di lavorazione terminiamo ora di lavorare con questo punto e andiamo a realizzare la rifinitura superiore del nostro progetto questo giro era cominciato con un incrocio quindi va a terminare con un punto basso questo è il mio ultimo punto di questo giro vado ora ad eseguire un giro di maglia bassissima sopra ciascun punto che mi si presenta prendendo però il punto solamente nella costa davanti questo era il primo punto del giro entro solamente nella costa davanti del mio punto e vado ad eseguire direttamente un punto bassissimo che vado a segnare con un marcatore mi sposto sul punto successivo prendendo solo la costa davanti ed eseguo un punto bassissimo proseguo in questo modo lungo tutte le maglie che mi si presentano senza variazioni fino ad arrivare al termine del mio giro al termine del giro mi fermo una maglia prima di quella segnata con il marcatore il marcatore segna la prima maglia bassissima del giro questa maglia dovrei ora lavorarla per ottenere un punto bassissimo ma non la lavoro con l'uncinetto bensì crea una chiusura invisibile utilizzando l'ago eseguendo questo punto con l'uncinetto e passando poi alla chiusura si andrebbe a creare un aumento perché lavorerei un punto in più rispetto a quelli che mi si presentano sulla base quindi allungo l'asola sfilo l'uncinetto e taglio il filo lasciandomene un pochettino in più dopodiché sfilo il tutto e pongo il filo su un ago con l'ago vado a passare sotto ad entrambe le costine del punto bassissimo segnato col mio marcatore lo rimuovo e porto il filo con me dopodiché torno indietro all'ultimo punto bassissimo lavorato in questo caso passo esattamente al centro tra le due costine che compongono il punto e porto così il filo all'interno del mio corpo borsa in questo modo ho creato una finta maglia bassissima e chiuso questo giro in modo invisibile blocco il filo all'interno del lavoro andiamo ora ad applicare i ponticelli al corpo borsa per poter poi agganciare i manici ogni ponticello presenta delle alette che dobbiamo far passare in questo modo all'interno della lavorazione le lettere troveremo poi quindi all'interno della borsa per evitare che queste siano visibili una volta che il progetto è completato dobbiamo inserire i ponticelli prima di foderare la fodera andrà quindi a nascondere tutte le parti in metallo che vogliamo non siano visibili quando guardiamo all'interno del progetto quindi tutte le parti in metallo che vanno nascoste vanno applicate prima di foderare come trovare la posizione corretta per i nostri ponticelli poniamo frontalmente davanti a noi il lato lungo della borsa dopodiché prendiamo un manico e il manico lo appoggiamo sulla borsa decidendo a quale altezza vogliamo poi ritrovarlo una volta che il progetto sarà completato fatto questo andiamo a segnare la posizione con dei marcatori e in corrispondenza di ciascun marcatore andiamo poi ad applicare il ponticello lo appoggiamo sfiliamo il marcatore spingiamo in modo che le alette passino attraverso la lavorazione inseriamo sul retro la placchetta di sicurezza dopodiché andiamo ad aprire le alette e dobbiamo ripetere questi passaggi per tutti e quattro i nostri ponticelli con l'aiuto di utilizzando un cacciavite vado a svitare la barretta del mio manico faccio passare questa parte all'interno del ponticello e reinserisco la barretta facendola passare tra tutte le varie parti del manico in bambù dopodiché sempre con il cacciavite vado a stringere e ripeto questi passaggi per le due parti di ciascun manico avrete notato nel corso del tutorial che non ho inserito alcun genere di supporto interno al progetto questo perché il punto di lavorazione che ho scelto di utilizzare benché il filato sia molto morbido da lavorare da compattezza al tutto da sostegno al progetto stesso quindi la borsa rimane perfettamente in piedi da sola ma ovviamente se desiderate un risultato più rigido potete inserire un supporto interno che può essere della rete del termo indurente della salpa del feltro a vostro gusto così come a vostro gusto la tipologia di chiusura da applicare a questa borsa potete inserire infatti una zip a chiusura del progetto dei bottoni magnetici poiché la borsa rimane praticamente già chiusa nel momento in cui l'andata di indossare potete inserire una chiusura a girello insomma è un progetto super versatile che potete adattare alle vostre esigenze per quanto riguarda la fodera io vi consiglio una fodera a sacchetto trovate le spiegazioni per ricrearla in diversi miei video tutorial presenti qui su youtube e all'interno del mio corso dedicato alle borse all'uncinetto trovate il link per il corso direttamente nel box informazioni subito sotto il video siamo così arrivati al termine di questo tutorial borsa che spero sia stato per voi un buon spunto creativo abbiamo imparato a lavorare in circolare il punto canestro alternato intrecciato un punto che dà sostegno a tutto il nostro progetto anche utilizzando dei filati molto leggeri e morbidi da lavorare come la fettuccia un filato secondo me perfetto per la miglior riuscita di questo punto vi piace questa borsa pensate di riprodurla se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video e ovviamente se avete dei dubbi delle domande non esitate scrivete un commento e sarò felice di rispondervi se siete poi principianti e volete approfondire tutto quello che c'è da sapere sul mondo delle borse vi ricordo che potete trovare il mio corso online disponibile 24 ore su 24 7 giorni su 7 da casa vostra in totale autonomia e il corso una volta acquistato è vostro per sempre tutte le informazioni sempre nel box informazioni sotto il video ora con la mia nuovissima borsa vi saluto vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale youtube a presto